In Italia non ci sono solo famiglie in difficoltà, anzi ci sono anche famiglie con risparmi importanti, bisogna far tirare fuori questi risparmi e farli appunto investire e metterli in circolo nell'economia. Possiamo farlo e come può farlo il settore retail? Intanto appunto garantendo un'offerta che sia sempre più, lo abbiamo detto, integrata, omnicanale e anche veloce. Buongiorno a tutti e benvenuti ai nostri Markup Talk. Oggi siamo con Benedetta Briotsky di European House Ambrosetti e vogliamo sapere tutto di lei. Chi sei, da dove arrivi e come mai ti occupi di retail? Grazie Cristina e buongiorno a tutti. Io mi occupo appunto di retail, in particolare sono uno degli associate partner di European House Ambrosetti che è una società di management consulting, il primo team tank privato italiano e in particolare sono responsabile della nostra divisione food e retail, quindi tutto ciò che riguarda il mondo dell'agroalimentare e del retail food e non food. Come sono arrivata al settore del retail? Io sono in Ambrosetti da circa otto anni e dopo un periodo iniziale in cui mi sono occupata di tanti temi, dall'energia alle infrastrutture, all'agroalimentare anche al mondo del retail, ho deciso proprio di specializzarmi diciamo in questo verticale, affascinata da alcune caratteristiche del retail, in primo luogo l'aspetto umano e anche l'aspetto diciamo di ricadute economiche e sociali sui territori che abbiamo iniziato ad indagare e che devo dire ci ha sorpreso non poco scoprendo quanto è importante questo settore proprio per l'economia italiana. Ecco ma tu sei arrivata ad Ambrosetti, non sei nata dentro Ambrosetti, hai avuto un percorso, che percorso hai fatto? Allora io ho studiato discipline economiche e sociali in Bocconi, in inglese, quindi ho fatto sia la triennale che la specialistica in Bocconi, in realtà poi ho fatto un anno a Boston con un programma di scambio appunto tra Bocconi e Boston University, quindi ho trasforso un periodo lì e in Bocconi mi occupavo di tutt'altro, ad essere sicura, quindi mi occupavo di econometria e di economia politica, economia dello sviluppo. Volevo fare carriera accademica, quindi ho iniziato un dottorato alla London School of Economics, ma poi diciamo studiando altri anni, ancora dopo la Bocconi, mi sono resa conto che mi piaceva di più affrontare problemi più concreti, quindi più diciamo della nostra intera e sono quindi approdata alla consulenza e ho conosciuto appunto Ambrosetti da Londra, quindi questa è un po' la mia storia prima di Ambrosetti. Quindi tu ti occupi di retail, food, no food e abbiamo detto del mondo anche food e dell'agroalimentare. È un momento non semplice questo che stiamo affrontando e come tu, come vedi questo momento per il retail, quali sono le opportunità e le sfide che aspettano il retail? Ma sicuramente come dicevi tu siamo in un momento complesso, noi lo abbiamo detto tante volte anche insieme, il retail specializzato si trova nel mezzo di una tempesta perfetta che sicuramente richiede alle aziende di ripensare un po' le loro strategie. Intanto dobbiamo considerare che i consumi ancora prima di questo momento diciamo di tempesta in Italia erano fermi, questo vale per l'alimentare ma soprattutto poi per il mondo non food e ovviamente la crisi infattiva e il secondo prima hanno dato insomma un fiori battuto dal resto over situazioni che era un po' da in certo modo ma fiatto ancora prima di questa furbolezza. In particolare se guardiamo insomma il settore non food, lo diciamo spesso anche con le aziende appunto con cui lavoriamo, ci preoccupano soprattutto le famiglie appunto dei quintini più bassi di rendito perché purtroppo i consumi non alimentari rientrano in quella spesa che è comprimibile da parte delle famiglie e quindi sono un po' la prima voce di spesa che viene tagliata appunto in un contesto di difficoltà vale per l'abbigliamento magari meno per categorie come l'elettronica e la tecnologia che comunque sono andate molto molto bene però ecco diciamo se dobbiamo fare un discorso generale sul not food posso ci preoccupare e in particolare appunto sono proprio le famiglie a rendito più basso che hanno una quota di spesa non comprimibile molto alta più del 75% quindi quello che rimane fuori diciamo per acquisti che non sono l'alimentare, le bollette, l'affitto insomma la salute, le spese necessarie per vivere è davvero poco quindi su questo noi lo diciamo sempre anche con la nostra community bisogna insomma intervenire per sostenere questi consumi anche perché spesso sono quei negozi che rendono belli i nostri centri urbani lo vediamo bene anche nei periodi di festività sotto Natale quando abbiamo insomma tutte le strade addobbate con le luminane ma non solo è sempre piacevole insomma passeggiare in centri urbani che abbiano diciamo un commercio antivitale e bene o gradevole da venire quindi ecco è importante sostenerlo Ecco quando parli di sostenerlo da che punto di vista cioè quali sono le azioni che consigliate sia ai retailer ma anche alla community più allargata se non alle istituzioni perché in qualche modo sostenere i consumi cosa significa? Allora noi diciamo partiamo ancora da un mino quadro diciamo abbiamo sempre sostenuto che un'Italia un po' è mancata e manca purtroppo ancora una visione unificata sul commercio anche perché il retail non ha ancora una voce univoco anche a livello istituzionale cioè non c'è un ministero dedicato al commercio quindi quando parliamo di commercio abbiamo ancora un approccio frammentato tra diversi ministeri e non c'è un ente unico può essere un ministero, un'agenzia insomma di riferimento come invece accade in molti altri paesi europei e anche anglosassoni dove invece insomma il commercio è proprio al centro in una visione paese più strutturata quindi questo lo vediamo non solo in un contesto di crisi ma in generale un po' di partenza secondo noi da cui dovremmo iniziare a riflettere e questo lo vediamo anche per esempio nel famoso PNRR che dovrebbe rilanciare l'economia italiana con investimenti importanti in tutto il documento che noi abbiamo letto e analizzato la parola commercio o retail non c'è mai quindi non viene mai citata e siamo convinti che insomma se i consumi food e non food in Cina o per il 60% del PIL non può non esserci un riferimento al commercio o al mondo retail in un piano così ambizioso di rilancio insomma per il paese quindi questo se vogliamo è proprio un ripartenza alto che non possiamo non menzionare con i riferimenti invece alla situazione più contingente noi guardiamo col favore in tutto ciò che può aiutare appunto a sostenere i consumi soprattutto delle famiglie appunto più in difficoltà ma è anche importante poi lavorare sul mondo azienda quindi promuovere intanto tutti quegli investimenti in tecnologia e in digitale che possano diciamo contribuire all'evoluzione del retail specializzato in quella logica omnicale che guardi sia i punti vendita fisici ma molto anche all'online che non possiamo appunto trascurare che sta crescendo molto con risultati importanti soprattutto per alcuni settori con condizioni che poi devono essere paritetiche tra i retailer diciamo chiamiamoli tradizionali anche se ormai sono appunto omnicanali e le piattaforme le piattaforme appunto digitali per garantire condizioni che siano paritetiche anche da un punto di vista di concorrenza su questo peraltro la commissione ha fatto diversi passi avanti si sta ragionando quindi lo registriamo insomma con interesse e poi secondo noi è un tema diciamo che anche in altre occasioni abbiamo affrontato insieme è importante anche raccontare bene il bello di questo settore perché spesso è stato un po' anche per colpa degli operatori stessi che hanno magari un approccio un po' più calimeristico come spesso diciamo è stato raccontato senza valorizzare bene i tatti distintini che ha anche da parte appunto dei lavoratori stessi dentro del comparto proprio per raccontare anche l'aspetto più umano sociale e diciamo di ingaggio non solo dei consumatori ma anche proprio delle persone che lavorano in questo settore a partire proprio dagli andetti vendita che hanno un ruolo fondamentale per fidelizzare i consumatori e appunto raccontare le caratteristiche di questo concorso perché è un settore in cui moltissimi giovani iniziano a lavorare passami il termine quasi per caso magari come prima esperienza dopo la scuola superiore o dopo l'università e molti di loro poi si chidenizzano con dei percorsi di carriera molto belli molto accelerati che non sempre sono così noti ecco quindi forse anche raccontarli di più da parte anche degli addetti stessi del settore potrebbe contribuire a posizionare ancora meglio questo comparto beh mi pare che proprio come Ambrosetti stiate facendo proprio un lavoro in questo senso se non sbaglio cioè mettendo in video dei mini racconti in questo senso e ne abbiamo fatti ne abbiamo fatti dei culi abbiamo anche alcuni diffusi anche nell'ambito del nostro forum dello scorso anno nell'ambito di questo podcast che abbiamo chiamato Genzi for Retail quindi è proprio dedicato alle generazioni più giovani e raccontiamo attraverso proprio la loro voce cosa voglia dire lavorare appunto nel retail e devo dire sono storie molto interessanti di ragazzi che sono approdati a questo comparto spesso appunto senza una particolare invocazione diciamo verso il retail ma che poi piano piano sono riusciti ad avere una progressiva autonomia anche della gestione magari vendita in un'area di clienti o in un'area geografica e devo dire con un percorso di carriera estremamente accelerato che in 3-4 anni li ha portati appunto ad avere grande indipendenza proattività con soddisfazioni anche proprio di carriera importanti che magari non sono così attenzionati da parte appunto del decisore ma anche delle scuole che spesso hanno percorsi di formazione scuola-lavoro che non sempre coinvolgono lo settore in tempo quindi forse in questo si potrebbe fare di più ecco ecco mi piace la generazione Z for retail ecco tu prima hai accennato la vocazione secondo te che cosa significa avere la vocazione per il retail se chi ci sta ascoltando in questo momento dice ma io sono portato per il retail cosa bisogna cosa bisognerebbe avere ma allora guarda quello che abbiamo un po' anche noi imparato devo dire dalla relazione con questi con questi ragazzi la cosa che direi in primo aspetto è proprio l'elemento diciamo relazionale quindi bisogna avere passione per avere a che fare con le persone quindi anche ascoltare le loro storie le loro esigenze ed è anche un po' l'aspetto che più motiva la crescita dei lavoratori del settore perché poi anche questi ragazzi ci dicevano tanti clienti che sono entrati per la prima volta nel nostro punto vendita sono tornati proprio grazie a me perché magari avevo arredato la cameretta appunto di loro figlio sono tornati per il secondo figlio oppure avevo venduto non lo so l'abito per questa cerimonia e sono tornati da me anche poi per il matrimonio del fratello e volevano proprio la mia consulenza quindi questo devo dire gratifica fa sentire importanti ed è anche un bel modo per testare appunto quell'aspetto più relazionale che magari un ragazzo come sua dotazione personale ma al liceo o insomma alla scuola superiore non si esercita non si esercita tanto quindi questo lo citerei come primo punto oltre poi alla possibilità anche di diventare molto esperti di un determinato verticale che siamo onoros nei negozi di videogiochi quindi un ragazzo che ha una forte passione verso il mondo dei gaming lavorare in un negozio di videogiochi o in una catena di elettronica che vende videogiochi veramente ti dà la possibilità di diventare grande esperto di quel verticale magari di fare quella che è una tua passione diciamo nel quotidiano proprio la tua professione quindi anche questo è un aspetto molto bello che insomma abbiamo approfondito con i ragazzi e devo dire non capita poi in tutti i settori di poterlo fare l'anno di giovane parliamo di futuro qual è secondo voi le sfide che aspettano il retail nel prossimo futuro e quali sono gli strumenti da mettere in campo subito per poter affrontare queste sfide allora intanto appunto l'abbiamo detto anche l'abbiamo detto prima ma non possono ripeterlo il tema appunto dei consumi è fondamentale sostenerli ma è anche fondamentale attendere chi può farlo perché appunto in Italia non ci sono solo famiglie in difficoltà anzi ci sono anche famiglie con risparmi importanti bisogna far tirare fuori questi risparmi e farli e farli appunto investire e metterli in circolo nell'economia possiamo farlo e come può farlo il settore retail intanto appunto garantendo un'offerta che sia sempre più lo abbiamo detto integrata omnicanale e anche veloce senza poi esagerare perché è vero che il tempo anche per fare la spesa per fare acquisti è sempre meno quindi sono cambiate in questo senso anche un po' le esigenze delle famiglie e quindi è fondamentale rimodulare un po' l'offerta ma anche con un execution che sia insomma veloce monitorando anche un'evoluzione dei trend di consumo che devo dire è sempre più veloce ed è anche sfidante per le aziende e come lo possiamo fare sicuramente integrando le nuove competenze dei giovani non solo dei giovanissimi anche prendendole appunto da altri settori questo è un settore forse un po' più chiuso di altri cioè se guardiamo alle professionalità nel mondo del retail spesso sono persone che fanno tanta carriera all'interno di questo settore e vengono da questo settore mentre in altri comparti c'è un po' più scambio quindi forse anche anche in questo contesto di complessità guardare cosa fanno gli altri comparti e favorire un po' di scambio anche di competenze di professionalità con altri settori può essere positivo anche per gli investimenti in tecnologia in innovazione in digitalizzazione che sempre ne più richiedono competenze non solo sul retail ma appunto un po' più di ampio respiro e poi c'è tutto il grande tema della trasformazione sostenibile e circolare sempre ne più è una richiesta del consumatore quindi punti d'endita che siano sostenibili proprio appunto da un punto di vista di realizzazione negli spazi ma anche poi dei prodotti appunto che le diverse insegne commercializzano e questa non è solo una richiesta delle istituzioni e dell'Unione Europea che spinge in questo senso ma anche del consumatore che davvero è attento all'etichetta lo vediamo nei prodotti food ma sempre di più per esempio anche nell'affigliamento e si informa prima di fare acquisti quindi non è più solo il prezzo che guida che rimane una variabile importante ma molto anche appunto l'attenzione alla sostenibilità e questo è importante diciamo alle scelte che ci vanno in questa direzione e disporsi a comunicarle quando si hanno diciamo delle basi sonide su cui farlo perché il consumatore è molto attento anche a fassi falsi da parte delle aziende e viceversa invece premia con loro che sono insomma molto simili in questo senso e poi una componente di servizio che già è molto insomma molto spinta sempre nel futuro perché c'è una società che purtroppo invecchia con delle esigenze anche di servizio che diventeranno sempre più importanti e quindi spesso insomma noi ne scuchiamo anche con le aziende di come dovranno andare incontro a queste esigenze con servizi sempre più personalizzati magari sempre di più anche a domicilio per andare incontro a quelle persone che purtroppo avranno diciamo disponibilità e possibilità di movimento più limitate e infine come fare diciamo per fare tutto questo che non è poco il tema delle partnership cioè il lavorare anche all'interno del settore ma anche con settori diversi in logica di partnership lungo la filiera proprio per appunto mettere a sistema competenze diverse anche da settori che potrebbero concentrare nulla col mondo del retail ma in questa logica dei servizi ascenti e anche gli investimenti tecnologici che per forza si rafforzeranno devono essere poi portati all'interno del settore ecco nel retail spesso si è parlato come grande limite delle dimensioni il retail italiano in linea di massima tende a essere un po' meno nel retail no food dove ci sono le grandi catene europee e internazionali ma di fatto come retail made in Italy penso al largo consumo ma anche all'abbigliamento eccetera noi abbiamo poche catene che vanno all'estero ce n'è qualcuna che sta lavorando molto bene ma altre molto meno quanto è un limite la frammentazione e il grande ma in Italia sono molto nel retail anche in altri settori ma molto nel retail food e no food perché aziende piccole spesso non hanno la massa critica che serve per fare quegli investimenti in tecnologia e in digitale ma anche in attrazione di capitale umano qualificato e quindi purtroppo rimangono intrappolate in una situazione di no crescita perché non possono appunto investire quanto serve quindi in questo senso noi lo abbiamo sempre detto anche appunto con riferimento all'ambito food è fondamentale favorire aggregazioni o comunque partnership che favoriscano appunto il rafforzamento dimensionale delle nostre delle nostre imprese anche perché poi sono le grandi imprese che possono avere un ruolo guida anche verso la filiera di fornitura pensiamo per esempio all'introduzione di requisiti di sostenibilità di circolarità e alla capacità poi di monitorarne una piccola impresa difficilmente ce la può ce la può fare per tanti anni abbiamo sostenuto che piccolo e bello sicuramente dobbiamo difendere le eccellenze delle territorialità anche italiane ma non è sempre vero che piccolo e bello anzi spesso sono le grandi imprese che possono avere un ruolo guida in questa trasformazione quindi sicuramente noi siamo sempre favorevoli insomma al rafforzamento dimensionale sia con aggregazioni acquisizioni di imprese ma anche appunto in logica di partnership perché no visto che hai un background economico molto forte nella domanda la finanza entra poco nel mondo del retail potrebbe entrare di più o sarebbe come dire un problema cioè perché non ci sono strumenti finanziari adeguati qual è il problema per cui la finanza penso ai fondi penso alle banche eccetera investono solo della parte immobiliare ammesso nel processo che investono è un tema che dovrebbe essere affrontato perché settimamente sia nel mondo food che nel mondo no food la finanza è ancora poco presente nell'ambito retailing del food forse di più se guardiamo alla parte appunto più di di manifattura quindi di industria in trasformazione alimentare ma il mondo retail non è ancora molto attenzionato dagli investitori soprattutto internazionali nel nostro paese perché forse proprio perché il commercio appunto non viene ancora percepito come un settore economico e come una filiera industriale a tutti gli effetti viene sempre guardato magari più come parte di mera distribuzione e quindi magari forse meno meno di interesse meno strategico mi verrebbe da dire ma in realtà non è così c'è a tutti gli effetti è una filiera industriale che peraltro coinvolge moltissimi settori quindi anche da un punto di vista proprio di come posso dire di ritorno dell'investimento ha tutte le carte in regola per essere un settore diciamo attenzionato e anche attrattivo per gli investitori una cosa che a noi colpisce sempre ci ha colpito la prima volta che lo abbiamo scoperto dai dati e colpisce anche quando la raccontiamo è che il retail in realtà è il primo settore per investimenti in Italia circa il 10% degli investimenti privati nel paese perché poi ci sono anche tutti gli investimenti accessori all'apertura di un punto 20 agli ordini di urbanizzazione tutta la parte anche di logistica di infrastruttura che sono a carico spesso del retail e che movimentano anche gli investimenti italiani quindi da questo punto di vista è un settore che veramente diciamo è chiave per l'economia italiana e non solo e meriterebbe anche più attenzione da parte della finanza forse anche qui bisognerebbe saperlo raccontare bene quindi sia da parte degli operatori ma non solo ecco bisognerebbe un po' cambiare la percezione del settore perché un po' è già avvenendo ma forse su questo si potrebbe fare il mio bene un'ultima domanda torniamo a Benedetta che siamo partiti da chi è Benedetta Brioski una curiosità allora vivi e lavori in un mondo molto maschile perché lo sappiamo in un mondo dell'economia soprattutto quello food o quello non food un po' meno comunque è molto maschile parli molto di tecnologia e anche lì sappiamo che non è un territorio su cui ci sono presenti molte donne è un peccato com'è vivere e quali sono le difficoltà oltretutto sei pure giovane quindi insomma hai due handicap in uno com'è il vivere e lavorare quale difficoltà incontrate e quale consiglio daresti alle giovani donne che vorrebbero essere Benedetta Brioski ma allora confermo che è difficile lo è stato soprattutto all'inizio perché come dici tu sei giovane sei donna non è facilissimo farti ascoltare all'inizio perché è comunque un mondo molto maschile e anche non sempre giovanissimo ovviamente se guardiamo alle figure più apitali e quindi non è facilissimo all'inizio conquistarsi la credibilità e insomma l'essere ascoltato in situazioni dove magari se non hai la cavatta e i capelli grigi fai un po' più fatica ad esprimere appunto il tuo punto il tuo punto di vista quindi ecco sicuramente non ho visto grandissimi cambiamenti in questi 7-8 anni quindi è un settore che rimane come dicevi tu ancora molto molto maschile anche se devo dire le aziende hanno l'attenzione oggi nell'attrazione di talenti molto orientata anche a profili femminili ma non solo c'è un'inclusività in generale di figure che possono essere a mio titolo un po' diverse per formazione per valore insomma da quelle che ad oggi ci sono nel comparto quindi in questo devo dire le aziende un'attenzione ce l'hanno e spero che essendo risorse che entrano oggi facciano un percorso di carriera nei prossimi anni che aiuti insomma all'evoluzione nel comparto in questo senso il consiglio che do è lavorare sul contenuto perché poi alla fine quando insomma si hanno cose importanti da dire che sono anche validate da dati da numeri come sempre succede nei nostri studi alla fine il modo di farsi aspettare lo si trova sempre quindi riporto i primi magari conveni i primi eventi a cui mi invitavo a partecipare è un po' titubante perché c'è una platea appunto molto molto maschile molto più magari più signor di me devo dire poi col tempo più lo si fa più si diventa anche confident nel farlo quindi buttarsi sicuramente e non farsi spaventare e lavorare sul contenuto sicuramente quindi ti ricordi l'episodio se vogliamo dire peggiore che ti è capitato in quanto giovane donna del tipo mi faccia un caffè o cose di questo genere beh guarda sai che te l'avrei citato allora mi ricordo il mio primo comitato esecutivo non dico di quale associazione insomma di che contesto completamente maschile solo maschile era un tavolone di 30-40 uomini io ero con il nostro amministratore delegato appunto Valerio e presentavamo a due voci il documento io sono entrata lui ha iniziato a parlare mi sono seduta diciamo a lui e la persona diciamo a me mi ha proprio chiesto posso chiedere a lei un caffè e per carità io ne faccio anche volentieri oppure spesso magari all'inizio quando appunto presentavo con Valerio mi scambiavano per la sua assistente quindi la persona che lo accompagnava ma che non avrebbe presentato parte del documento rimanerano sempre un po' spiazzati quando poi lui mi passava la parola in questo senso devo dire e lo devo ad Ambrosetti Ambrosetti è una realtà che promuove molto e anche spesso butta i giovani nella mischia all'inizio può spaventare ma devo dire è per una bella palestra quindi in questo senso e insomma che non è solo Ambrosetti una realtà che lo fa devo dire che sempre di più questi tavoloni di soli uomini questi giovani in più ce l'hanno dai quindi vedo un piccolo segnale anche se avendo vissuto all'estero devo dire l'Italia è un po' un po' in ditto secondo me su questo mi sono sentita più in difficoltà appunto in contesti italiani che non magari in contesti internazionali dove anche per background semplicemente non so religioso ma anche i valori di provenienza geografica c'è un po' più di varietà quindi non ti senti mai l'unica l'unica peccora nera se sei donna se sei uomo se magari appunto sei giovane e quindi c'è un po' più di varietà e non ti senti l'unica peccora rosa esatto bene ringraziamo Benedetta Bioschi di essere stata con noi e ci rivediamo al prossimo Markup Talk grazie mille Cristina a presto